C'è un iscritto nel registro degli indagati dopo l'incidente mortale sulla Litoranea che ha costato la vita sabato pomeriggio al 23enne Alfredo Genovese. Si tratta di Antonio Guadaluppi, 43 anni, residente al quartiere Casale, dipendente aeroportuale. Sarebbe lui il centauro che dopo aver visto il suo amico morto avrebbe cacciato l'urlo di dolore per poi allontanarsi dal luogo dell'incidente. I vigili urbani lo avrebbero ascoltato a lungo. Siamo stati insieme per buona parte del pomeriggio, avrebbe riferito agli inquirenti, ma al momento dello schianto non ero con lui. Ci eravamo separati dopo un giro a Santa Sabina da circa un quarto d'ora. E a rientro, lungo il tratto tra Lido Sant'Anna e Acque Chiare, il macabro incontro e la fuga in preda al dolore, la rabbia e la confusione. Guadaluppi, amico di famiglia, ha raccontato agli investigatori guidati dal PM Valeria Farina Valaori di essere stato lui e di iniziare il giovane alla passione dei motori, ma nega che tra la sua moto e quella dell'amico possa esserci stata una collisione che ha determinato la caduta mortale di Alfredo Genovese anche perché al momento dell'impatto non si sarebbe trovato sul posto. Restano da spiegare quelle due traiettorie differenti, rimarcate sull'asfalto dei vigili urbani, anche se la moto da strada di Guadaluppi, trovata e sequestrata dal magistrato, non presenterebbe segni di urti. La dinamica dello schianto dopo una scivolata di cento metri è ancora tutta da chiarire, mentre la Polizia di Stato è alla ricerca di un testimone che potrebbe aver visto qualcosa, fornire elementi utili e viaggiava su un'auto di colore azzurro o celestino. Resta l'appello a chiunque abbia visto qualcosa a rivolgersi alla questura di Brindisi nella persona dell'ispettore Ingrosso che sta lavorando al caso. I funerali di Alfredo Genovese, morto sul colpo per trauma cranico, si sono tenuti in forma strettamente privata a mezzogiorno nella chiesa dell'Ave Maristella al Casale.